La giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha condiviso tutto il dolore con i suoi follower. Su Instagram il messaggio da brividi Ti mando un abbraccio grandissimo. Capisco il tuo dolore. So cosa vuol dire soffrire così? Siamo tutti con te. È sempre dura. A noi rimangono i ricordi? Sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto uno degli ultimi post pubblicati da Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle. Il lutto l'ha travolta e l'ha messa in ginocchio definitivamente. Sarà difficile riprendere in mano le redini della propria esistenza dopo una sofferenza del genere. Il dolore è profondo e a tratti insopportabile. Ma la giudice ha tutta la forza necessaria per affrontare il terribile lutto. Sono sicura che tu sia in un posto pieno di pace e felicità. Starai festeggiando con tutti gli altri. Ha scritto e poi ha aggiunto. Due settimane senza di te mi sono sembrate un'eternità. Non ho mai smesso di soffrire. I fan le rimangono vicini in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Sperando che possa uscirne nel giro di poco tempo e tornare presto a sorridere. Tra l'altro a breve dovremmo rivederla in televisione per lo show di Millie Carlucci. A meno di clamorosi colpi di scena. Carolyn Smith. Dolore immenso per il suo Scotty. 13 anni insieme. Avrebbe festeggiato proprio in questi giorni il suo tredicesimo compleanno. Invece Scotty ha perso la battaglia contro il tumore al fegato. Il cagnolino di Carolyn Smith era stato sottoposto a un intervento martedì scorso. Ha lottato con tutte le proprie forze ma alla fine si è dovuto arrendere. Le analisi erano buone. C'era qualche speranza. Sfortunatamente 20 minuti dopo Scotty ha avuto un infarto, ha spiegato la giurata di ballando con le stelle. Inutile l'intervento dei medici per tentare di rianimarlo. Rimane solamente il dolore per una perdita che lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua proprietaria. Sono sicura che starai festeggiando il tuo compleanno con Alex, Cleo e Miki, ha scritto nella didascalia allegata alla foto del suo cane condivisa con i follower su Instagram. E poi ancora. Il silenzio è assordante in casa. Sono state due settimane di dolore. 13 anni insieme e pieni d'amore. Non c'è neanche bisogno di dirlo ma i commenti si sono sprecati. I fan hanno fatto sentire tutto il proprio affetto e la propria vicinanza in un momento così complicato per la giudice di ballando.